L'aula di Palazzo Madama è impegnata con il decreto fallimenti, mentre a Palazzo Montecitorio il ministro per le riforme, Maria Elena Boschi, pone la questione di fiducia sul decreto antilocali appena licenziato dal Senato. Il governo mette la fiducia sul DL antilocali, nessuna novità, soltanto che sceglie questa strada per mascherare i tagli incredibili alla sanità, oltre 2 miliardi e mezzo, in un paese dove il diritto alla salute non è più garantito per tutti. Ma nonostante i lavori parlamentari siano in scadenza e manchi più di un mese alle votazioni degli emendamenti, che tra l'altro non sono ancora stati presentati, nel PD già si affilano le armi per la battaglia sulla riforma costituzionale. Per la maggioranza, la minoranza Dem vuole un Vietnam per fermare il percorso di cambiamento e abbattere il governo con l'obiettivo di tornare al passato. La minoranza invece accuse i renziani di cercare lo scontro per evitare di confrontarsi sul merito. Il nostro compito è andare avanti con determinazione sulle riforme, avverte il ministro Boschi, che poi ricorda alla minoranza che il testo sul quale si andrà a votare è lo stesso che hanno contribuito a scrivere e sul quale hanno votato più di un anno fa. Da Tokyo, il premier Matteo Renzi ribadisce la sua volontà di andare fino in fondo. Faremo il referendum in cui i cittadini diranno sì o no alla riforma del Senato, dice, pronti quindi al confronto ma senza stravolgimenti. Discutiamo, aggiunge Renzi, ma a condizione che non si rimetta in discussione il fatto che i nuovi senatori non avranno lo stipendio. Su questo non si può tornare indietro. Sono pronto a trattare, ma solo per fare un accordo e non per far saltare tutto quanto. Una battaglia tutta interna al PD, partita dalla scuola, passata per la riforma della RAI fino alle riforme costituzionali. Per il renziano Carbone paventano un'imboscata, ma ad alzare i toni ci pensa anche il presidente del partito, Matteo Orfini. È incredibile che alcuni senatori minaccino il Vietnam contro il nostro governo. La minoranza PD, dal canto suo, ribadisce che la battaglia verrà portata avanti alla luce del sole e che non c'è alcun agguato in vista. I soliti pretoriani dell'obbedire replicano Vannino Chiti e Maurizio Migliavacca. Per i due senatori la verità è che il documento dei 25 senatori per il Senato elettivo non ha ancora ricevuto risposta e sollevare polveroni serve solo a dividere il PD. Sono ancora in fase di preparazione gli emendamenti che la minoranza DEM presenterà a fine settimana al disegno di legge Boschi sull'elezione diretta dei senatori, il meccanismo di elezione del presidente della Repubblica e le competenze del Senato. Ma per i renziani il pericolo è in commissione, dove nonostante l'ingresso di un verdignano i tre esponenti della minoranza restano determinanti quando a settembre si inizierà a votare. Il PD, assicurano dal Nazareno, cercherà di arrivare all'unità, ma sarà l'Assemblea al Senato, convocata per la ripresa dei lavori a settembre, a votare la linea da seguire.